Dopo dieci anni di silenzio finalmente è tornata sul mercato, è proprio questo novembre, ve ne siete accorti? Sì! Ogni volta che accendevo la televisione vedevo la faccia del mio amico Luca Toni, non ce la facevo più e anche di Marta Cecchetto, ovviamente quello non per vedere, ma Luca Toni, Luca Toni, tra l'altro io, non posso dire qua, sono interista, non è che vogliamo fare, capito, principe, colpo di vigliardo, gol, comunque non vogliamo dire, quanti milanisti ci sono qua? Vabbè, non vogliamo parlare dalla parte, comunque è finito 1-0, se ci sono dimenticato, è finito 1-0, vabbè, vedere Luca Toni, sì, un bel vedere, gli voglio bene, Luca Toni, di voi, è di là, Luca, dove sei? Vedi, fai il video, fai il video per adesso, vabbè, comunque, Luca Toni, ti voglio bene, hanno invaso le televisioni, queste dell'Alcatel, ogni due secondi in una pubblicità, poi uno accende la radio e dici, sulla radio no, cazzo, sulla radio, cioè pure su radio mi schisca, la radio non lavori, pure no, io la dovevo, cioè, vabbè, comunque ci siamo tutti accorti che è uscito questo modello, lo ripeto dopo dieci anni di silenzio, che è questo, one touch, with gold.